Quanto è buona l'acqua del rubinetto? Prima diamo spazio allo sponsor e poi possiamo proseguire. Allora, parliamo della favola del pifferaio magico. Nasce nel XIII secolo nella città di Hamel, nella bassa Sassonia, quindi Germania, e sappiamo tutti che narra di questa città piena di topi, arriva il pifferaio magico e pipipipi, con una musica melodiosa, se li porta via. Questa è la prima parte della storia. E perché ci interessa? Ci interessa per un fatto di cronaca che è accaduto da poco, ma poi si scopre che ci sono dei risvolti. Allora, Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fiat Chrysler Automobiles, nessuno mi farà dire l'acronimo, perché in italiano non è carino, e ha detto che non crede nelle auto elettriche. Bene, l'ha detto Marchionne. A ruota segue Toyota, che dice, è vero, anch'io non credo nelle auto elettriche. Subito dopo viene fuori Morgan Stanley. Si scopre che già da tempo Morgan Stanley ha pubblicato delle analisi da cui salta fuori quello che tutti sappiamo, cioè che le auto elettriche non sono ecologiche. Ma fin qui, dico, ci arriva la chiunque. Ma è questo il punto. Il punto è che ci arriva la chiunque, ma qualcuno non ci arriva. E qui viene fuori la storia del pifferaio magico, ovvero musica melodiosa, e c'è qualcuno che segue la musica, perché? Perché è innamorato del concetto, cioè è così innamorato dell'idea, che spegne il cervello, perché è così bella l'idea, che per favore è un sogno, lo so che è un sogno, ma non svegliatemi. Cioè è una delle cose più terribili del mondo. Ma andiamo avanti, perché poi, allora, un gruppo di ecologisti svedesi commissionano un'indagine a un istituto autonomo serissimo svedese per dimostrare che sono ecologiche. Cosa salta fuori? Che inquinano più di un'auto a benzina, ma non di più poco. Per costruire le batterie elettriche ci vuole così tanta tecnologia, così tanto lavoro, così tanto dispendio di materie prime, come un motore di un'auto a benzina, che viene acceso e lavora ininterrottamente per otto anni. Questo ci dice lo studio di questo serissimo universitario svedese. Poi salta fuori che la Mercedes, non oggi, ma addirittura un mese fa, aveva pubblicato, solo che finora poverini, erano distratte e non si ricordavano dove, ma avevano pubblicato uno studio in cui veniva fuori che le auto elettriche, senza incentivi nella produzione e senza incentivi nella vendita, non si vendono, non solo, ma che addirittura questo studio dice che il punto di pareggio non esiste, ovvero che la bufala, che è una delle tante cose, sapete quelle sciocchezze veramente da analfabeto, tipo quello che dice, più si compra più c'è sconto, e così l'altra cosa, l'altra bufala qual è, che a furia di produrre auto elettriche, prima o poi si arriverà al punto in cui costeranno così poco che ci si guadagnerà. Bene, non esiste, non esiste il punto di pareggio, perché si andrà sempre più avanti nella tecnologia, nell'investire in innovazione, eccetera, per cui gli investimenti saranno sempre superiori ai ricavi. Mentre sappiamo benissimo da sempre che, punto primo, le auto con il più bassa emissione, quindi le più ecologiche, sono quelle a metano seguite da quelle a GPL, che sono sistemi che possono essere montati su qualsiasi autovettura, diesel o benzina che sia, sì, anche sulle gasolio si possono montare, ma la cosa divertente a quel punto è che uno dice, vabbè, ma allora se quello è a basso impatto, perché ci fanno comprare le auto elettriche? Per forza, perché così si compra il nuovo. Allora il punto è quello, che se uno veramente è ecologista, se io non vado neanche in bagno perché non voglio tirare l'acqua, me la faccio addosso, che se no consumo l'acqua, c'è un ecologista vero, duro, puro, allora a quel punto si compra l'auto usata, perché non c'è niente di più ecologico di qualcosa che è già stato prodotto, perché l'inquinamento maggiore si ha, e oggi i dati ce lo dicono, si ha in fase di produzione, non in fase di utilizzo. Ed è qui la grossa bufala. E allora la domanda è quella, perché ci sono persone che devono comportarsi come i topi col bifferaio? Ma questo non riguarda solo il discorso auto elettriche, e stiamo vedendo, le agenzie di stampa ci dicono che ogni giorno sta venendo fuori qualcuno che alza la manina e dice ma veramente l'avevo detto anch'io, sì ma l'avevi detto a te stesso. Allora perché ogni tanto ci sono delle idee e c'è qualcuno che preferisce spegnere tutto pur di innamorarsi dell'idea? Perché? Perché ricordiamoci la seconda parte della favola del bifferaio magico e quella più pericolosa, perché il bifferaio aveva sì portato via i ratti da Amman, ma quando gli abitanti del luogo gli hanno fatto gli applausi ma si sono rifiutati di pagarlo, lui ha preso 130 bambini e con la musica melodiosa li ha portati via per sempre dal paese. Questo è il punto. Cioè, se ci pensate bene, il bifferaio magico ci toglie la vita. Attenzione, ragioniamo, pensiamo, nel nostro cervello abbiamo tutte le informazioni che si possono avere. Il problema è combinarle in maniera giusta. Siamo nell'era di internet, c'è la comunicazione, non fermiamoci a leggere i titoli, non fermiamoci a innamorarci dell'idea, leggiamo, studiamo. Ci sono istituti universitari che pubblicano ogni giorno ricerche, ci sono premi Nobel che ogni giorno scrivono e ci dicono cose interessanti da cui possiamo apprendere molto, da cui possiamo evitare di fare come i topi col bifferaio. o peggio, farci portare via il nostro futuro. Vabbè, io intanto continuo con l'Acqua del Rubinetto, che è il mio sponsor, e ci vediamo. Ciao.